Buonasera ai nostri telespettatori. E benvenuta la mia ospite che questa sera è Chiara De Santis. Benvenuta Chiara. Che io era un po' che inseguivo perché volevo parlare con Chiara non solo del libro di cui adesso parleremo che si intitola Il giardino delle Amazoni e che è legata a un'esperienza molto interessante che Chiara sta portando avanti, ma anche per parlare del tuo ruolo come psicopedagogista, come psicologa che si occupa dell'età evolutiva, etc, etc, etc. Cominciamo dal Giardino delle Amazoni. Com'è nata questa cosa Chiara? È nata dalla concretizzazione del concetto di interdipendenza forse, di cui i cavalli sono portatori, nel senso che da un legame di amicizia con Claudia e da una condivisione di una passione per i cavalli, venendo da una storia di lavoro in oncologia pediatrica, abbiamo voluto provare ad applicare la presenza dei cavalli ad un processo di sostegno psicologico di persone operate di carcinoma mammario. E tu hai parlato di oncologia pediatrica, stai parlando di Filippo? Sì, del famoso Filippo. Del famoso Filippo. Del famoso Filippo. Spieghiamolo ai nostri telespettatori. Chi era Filippo? Chi è? Chi è? Chi è Filippo? Filippo è un po' di meraviglioso, che è stato il protagonista di questo progetto di umanizzazione delle cule ospedaliere presso la clinica pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, dal 2006 al 2012. È stato l'animale protagonista, accanto ad una Jack Russell, di questo progetto di interventi assistiti agli animali che ha avuto un riscontro fortissimo nei bambini, una ricaduta sulle famiglie, e che forse ha aperto un po' la strada alla presenza degli animali in ospedale, grazie alla mente illuminata del professor Castello che colse la possibilità di un sostegno evolutivo specifico proprio grazie alla presenza di questo piccolo Pony Falabella. E quindi tu venivi da questa esperienza e hai messo in piedi invece un'altra cosa altrettanto importante che è il Giardino delle Amazzoni. Sì, è un progetto di ricerca che è pubblicato, che chiaramente ha visto il coinvolgimento tecnico e il sostegno teorico del Foro Italico nella persona della dottoressa Claudia Cerulli e del professor Parisi e che vede 20 signore uscite da un processo di chemioterapia e di mastectomia essere coinvolte in un ciclo di 32 sedute a contatto con i cavalli. Quindi partendo dalla confidenza a terra, da tutta la parte dell'impostazione di relazione nel lavoro di grooming per poi arrivare ad una fase anche a cavallo. e praticamente tu mi stavi dicendo prima, ed è una cosa che io condivido pienamente, che il grosso del lavoro che noi dovremmo fare con i cavalli quando chiediamo loro di darci una mano per i nostri problemi è quello di lavorare molto a terra. Questo vale per noi adulti, vale anche per i bambini. Raccontaci. Credo che per... Guarda che bella questa... È meravigliosa. Sono bellissime queste immagini. di calma, di serenità e di accoglienza. Lavorare con i cavalli in libertà, con i cavalli... Lavorare a terra con i cavalli, secondo me significa riconoscere l'alterità e quindi entrare in relazione con un essere che è altro da noi cercando di entrare nel suo mondo, cercando di entrare nel suo ritmo, nelle sue caratteristiche etologiche e quindi intessere innanzitutto una relazione. che poi può evolvere in qualsiasi tipo di possibilità futura che però trova una sua radicata esistenza nel riconoscimento reciproco e quindi nella possibilità di creare innanzitutto un legame. Che riscontri avete avuto dal punto di vista scientifico in questo esperimento? Perché è chiaro che adesso, senza parlare troppo difficile, ma insomma è una persona che ha quel tipo di operazione, che non è una normale operazione di tumore, che tu magari ti asporta in una cosa ma non la vedi. Lì purtroppo la vedi. E quindi c'è un'alterazione dell'immagine che noi abbiamo del nostro corpo, che vuol dire della nostra identità anche. E della nostra femminilità. E della nostra femminilità. Quindi è molto pesante come esperienza adesso, al di là della paura del tumore o del morire, ma c'è proprio qualcosa di... Impattante. La ricaduta scientifica è stata notevole, nel senso che noi volevamo andare a lavorare sul circuito della fatiga, che è uno degli effetti secondari legati alla chemio, e quindi che instaura un circuito vizioso in relazione al ciclo di depressione, e quindi il ritiro sociale, e quindi per esempio problemi regati anche all'aumento di peso, e quindi alla disfunzionalità rispetto proprio a tutta l'area del sé corporeo. Dati statistici hanno evidenziato la diminuzione della massa grassa, l'aumento della massa magra, un miglioramento del tono dell'umore, e una ricaduta rispetto alla frequenza cardiaca, alla frequenza respiratoria. Poi la meraviglia è stata che durante lo studio sono emerse una quantità di variabili che chiaramente non abbiamo potuto rilevare a livello quantitativo, ma che per esempio afferiscono a tutta l'area della femminilità, della sessualità. Uno degli elementi su cui abbiamo lavorato in modo approfondito è stata l'idea dello schema corporeo. Grazie ai cavalli che ci accolgono in questa fase di grande vulnerabilità e attraverso il dialogo corporeo si restaura una nuova ridefinizione di se stessi, e anche una nuova possibilità di sperimentarsi in questo corpo che comunque deve riuscire a riprendere una forma e deve essere nuovamente accettato. Sì, e la meraviglia che il cavallo porta è proprio questa, che ti accetta, ti prende su di sé, si fa carico di te e ti restituisce attraverso questo dialogo innanzitutto l'idea dell'armonia e poi l'idea che questo corpo abbia una nuova vitalità che magari non sapevamo più riconoscere o ritrovare. Senti, invece, adesso tu stai lavorando con i bambini? Sì, questo è il mio quotidiano, dal 2006 è il mio quotidiano. Sì, nel senso che io mi sono laureata con una tesi sulla relazione bambino-cavallo e sull'efficacia, sulle psicopatologie evolutive e sullo sviluppo. E da sempre ho cercato di concretizzare il mio studio nel lavoro quotidiano con i bambini. Devo dire che il mio quotidiano è costituito dall'interazione con moltissimi bambini della neuropsichiatria dell'ASL di Viterbo e del servizio disabile adulto e ho la fortuna anche di accompagnare questi bambini che poi oggi alcuni sono diventati persone adulte in un percorso accanto ai cavalli e con i cavalli che rivela ogni volta delle possibilità nuove dei talenti nuovi nel caso degli adulti sostiene nel far emergere abilità che magari in altri contesti sarebbe molto difficile evidenziare. Tu continui a dire con i cavalli, vicino ai cavalli quasi a voler sottolineare ed io lo condivido pienamente che i cavalli non necessariamente bisogna montarci sopra si può anche viverci accanto, no? Spiegala ai nostri telespettatori questa tua visione del cavallo che io sottoscrivo pienamente, tra l'altro. Credo fortemente nel principio dell'alterità animale e il cavallo porta con sé, come tu mi insegni, un'enorme carica simbolica, un'enorme forza relazionale che può essere esplicitata innanzitutto attraverso la fruizione dello stesso contesto. Immagino, in queste immagini si vede bene l'idea dell'essere immersi in un branco, di poter osservare il concetto etologico dell'interdipendenza, cioè per un bambino forse non c'è esempio più forte che vedere l'amicizia tra cavalli. È un'attestazione oggettiva e è anche una modalità che dice che per esempio le regole sono funzionali alla convivenza, che quest'animale ha un'infinità di codici comunicativi che noi ancora dobbiamo studiare, riinsegnare ai bambini per esempio a lavorare sulla comunicazione corporea, educarli ad osservare, ad ascoltare quello che succede in una situazione di naturalità, quella che può essere con un cavallo al paddock per esempio. È meraviglioso osservare i bambini che vivono a stretto contatto con i cavalli perché si caratterizzano per questa attenzione vivace, per questa grande capacità di presenza e di possibilità di essere protagonisti della loro crescita e quindi di coltivare salute. Credo che il cavallo possa costituire con tutti gli sport che sono adesso legati una possibilità educativa forte in questo momento, innanzitutto perché ci riporta alla natura. Dalla quale siamo sempre più distanti e invece della quale noi abbiamo disperatamente bisogno, soprattutto in una società tecnologizzata, anche malamente certe volte, come quella in cui viviamo, no? Assolutamente. Penso all'idea per esempio del ritmo al cui il cavallo ci porta, nel senso che è un animale che ha bisogno di cura e che struttura il nostro tempo. Mi piace molto pensare a un'immagine agostiniana del tempo. Tu entri in scuderia e quel tempo diventa un tempo infinito. Diventa un tempo di esperienza, diventa un tempo di empatia, di condivisione e di piena accettazione. Il cavallo costituisce una base sicura e l'idea di non dover essere performanti, ma poter essere bambini, penso che sia una grande opportunità. E forse questo un po' manca. Forse anche noi torniamo bambini quando interagiamo con i cavalli. Vedendoli così in natura, mi viene sempre da pensare quanto è antico il fascino che i cavalli hanno sull'uomo. Se pensi all'esconno, pensi alle grotte primitive, cioè 30.000 anni fa l'uomo primitivo disegnava i cavalli e sono in un numero enorme e non erano animali da cacciare perché erano troppo veloci e tutto sommato non erano così in carne rispetto ad altri molto più. E quindi è un fascino al quale antichissimo. Mi viene in mente, mentre tu parli, pensare ai bambini, magari bambini che seguo per la neuropsichiatria, che si incantano ad osservare i cavalli, che si incantano ad osservare un cavallo libero che trotta oppure all'improvviso galoppa e tu vedi quella focalizzazione e l'attenzione che noi tanto cerchiamo a livello riabilitativo che in un attimo si realizza perché viene calamitata l'attenzione e c'è un legame profondo che subito li calamita proprio rispetto a quella situazione e poi ha quella possibilità di, forse non so, trovarsi in quell'animale oppure trovarsi in quel legame profondo che l'animale ci permette di avere o in quella relazione non giudicante di cui tutti hanno bisogno è affascinante e è affascinante vedere la semplicità che gli animali ci portano. È una semplicità che è frutto di un'antica saggezza. Pensa al contatto naso-nasale, l'idea di annusarsi per riconoscersi e questo è un atteggiamento che per i bambini è naturale. Quando un bambino va verso un animale gli si pone rispetto al muso. C'è molto da studiare, come dicevamo prima, anche a livello di neuroscienze per riuscire ad approfondire, a capire quella che è la relazione che ci lega a questo affascinante animale. E sviluppare sempre di più le cose che abbiamo in comune, no? Assolutamente. Perché noi umani ci abbiamo in testa che siamo superori perché abbiamo questo pezzettino di neoporteccia, no? Così sofisticato. Ma il grosso della nostra vita, anche mentale, invece, è dato dal cervello emotivo che condividiamo con tutti gli altri animali. Quindi attenzione insomma. Sì, a scindere troppo. A scindere troppo. Chiara, l'equitazione è qualcosa che può aiutare i bambini normali? Si è ammesso in un concesso che esistano, dobbiamo fare tutte queste differenze per seguirsi. Nella loro crescita, nel loro sviluppo come individui futuri? Nella mia convinzione sì, assolutamente sì. Vedo la scuderia come un'agenzia educativa nuova che offre ai bambini la possibilità di stare in natura, di vivere a contatto con un animale che ha tanto da insegnare. Se noi pensiamo che il cavallo è l'animale che ci educa la flessibilità, perché attraverso il corpo ci educa il concetto sano di equilibrio, per esempio, anche l'idea di mantenere una centratura rispetto ad un movimento. Questa è una base psicologica forte. Per la serenità futura. E poi penso agli apprendimenti motori, penso a tutto l'aspetto relazionale emotivo legato all'empatia. Penso all'idea di fare gruppo in modo sano. E sicuramente questo richiede una mediazione di adulti molto preparati, sia sotto il profilo umano che sotto il profilo equestre, a mio modo di vedere. Il cavallo costituisce un mondo, un'opportunità. E se la nostra mediazione diventa una mediazione miope, è come se noi privassimo i bambini di alcune esperienze. E invece credo che nella relazione con il cavallo possa essere identificata la possibilità di un sano sviluppo. E anche la possibilità di coltivare salute. Forse tutti i bambini oggi hanno bisogno di incontrare degli occhi, penso agli occhi dei cavalli, che vedano la parte sana. Noi siamo molto tendenti alla medicalizzazione, all'etichettamento di disturbo dell'apprendimento, disturbo dell'attenzione. Poi magicamente metti un bambino con un cavallo e questo bambino si centra. Forse perché il cavallo è più motivazionale di noi. Potrebbe essere. Bisogna che noi lo riprendiamo questo discorso a settembre. Spero che tu possa venire. Noi siamo ormai alle ultime battute del periodo invernale, della trasmissione, ma insomma poi quando la riprenderemo ti vorrò avere di nuovo con noi. Ti ringrazio. Grazie. Per questa sera, grazie. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Grazie ancora di essere stata con noi. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito fino a qui. Come sempre, l'appuntamento è per domenica prossima. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.